Pinocchio Award the World è il titolo della mostra di Giacomo Pirozzi, fotografo dell'Unicef. Attraverso gli occhi di Pirozzi e di Pinocchio conosceremo i volti e le storie di tanti bambini del mondo, perché essere piccoli non è uguale ad ogni latitudine del pianeta. Il viaggio rappresenta una vera e propria finestra sul mondo che, oltre ad avvicinarci alle sorti di ogni bambino, ci invita a riflettere sui diritti dell'infanzia spesso negati. L'iniziativa si terrà presso il complesso monumentale di San Pietro a Corte, nella Cappella Sant'Anna attigua alla zona Ipogeo, il 17 e il 18 ottobre, con i seguenti orari, dalle 10 alle 18. Il sito di proprietà dello Stato è gestito dalla sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino, diretta dalla dottoressa Francesca Casule, con ingresso gratuito. La mostra è parte integrante del progetto Media Education Campus, prodotto dall'Associazione Salerno in Festival, è promosso dal MIOR e dal MIBAC, Ministero Beni Culturali e per il Turismo. Nasce con lo scopo di facilitare il processo di digitalizzazione. Artbonus, allora arriva questa nuova iniziativa di concorso delle monete antiche di Velia? Sì, allora il 3 ottobre a Lucca, in occasione della rassegna annuale di Lubeck, è stata lanciata la quarta edizione dei concorsi progetti Artbonus. In cosa consiste questo concorso? Allora, ogni anno all'interno del portale Artbonus, questo portale nazionale, vengono selezionati alcuni dei progetti e messi a concorso. Quest'anno tra i progetti selezionati e messi a concorso è stato scelto anche quello della sovrintendenza Le Monete di Elea Velia, un progetto che è nato dalla collaborazione tra la sovrintendenza archeologia, belle arte e paesaggio di Salerno e il DISPAC dell'Università di Salerno e che ha avuto come finanziatore la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni di Roma. È importante essere stati selezionati e messi a concorso perché il progetto è un progetto molto importante. Consiste nel restauro di una quantità cospicua di monete trovate durante uno scavo effettuato a Elea Velia, nel parco archeologico di Elea Velia. È un restauro importante perché ci restituisce un patrimonio importante, quello delle monete, ma è anche un progetto che permette di riscrivere un po' la storia del territorio. Quindi è un progetto sicuramente importante, un progetto che va sostenuto e che va votato. Troverete il link utile per la votazione sul sito della sovrintendenza, vota il progetto Elea Velia, www.ambientesa.it e anche su Facebook della sovrintendenza. E poi anche sul sito nazionale dei concorsi sono tutte notizie che troverete sul comunicato stampa che ha preparato il collega Faiella. Quindi chiediamo a tutto il territorio, a tutta la comunità, di sostenere questo progetto importante e di votare. Infatti il progetto che prenderà più voti sarà premiato all'edizione di Lubec dell'anno successivo, quindi del 2020. Fino ad ora sono risultati vincitori sempre progetti del Nord. Quest'anno lanciamo questo progetto e con orgoglio del territorio speriamo di vincere, di essere tra i vincitori e tra i premiati l'anno prossimo. Giacomo Pirozzi, fotografo ufficiale dell'Unicef, apre una finestra sul mondo al complesso monumentale di San Pietro a Corte. Di che si tratta? Un progetto, devo dire la verità, che mi ha particolarmente commossa perché ha una visione della vita che è molto simile alla mia. L'associazione Salerno in Festival, che ha organizzato un evento per gli studenti sulla conoscenza dei media e del cinema, ha invitato una serie di professionisti tra cui Giacomo Pirozzi, che è il fotografo dell'Unicef ed è anche un salernitano tra l'altro. Giacomo Pirozzi porterà questa mostra che noi esponiamo in anteprima nel complesso monumentale di San Pietro a Corte e farà un giro internazionale, non so dove, però inizia da qui, da Salerno. E di che cosa si tratta? È una mostra che fa girare Pinocchio nel mondo. Lui fotografa questi bambini con questo Pinocchio in braccio e la cosa sorprendente è che in tutto il mondo si conosce Pinocchio, che è una storia italiana. Ma la cosa ancora più bella di questa mostra è quello, è il messaggio che ci vuole dare Giacomo, e cioè quello di cominciare a vedere il mondo con gli occhi degli altri. Se noi vogliamo iniziare a vedere quello che effettivamente abbiamo sotto gli occhi, dobbiamo un po' abbandonare i nostri e prendere in prestito quelli degli altri. E quale cosa migliore è di quella dei bambini, che hanno una visione pura. Ed è per questo che noi come sovrintendenza abbiamo accolto con gioia questa mostra, che spero possa a tutti quelli che la vedranno far vedere il mondo in un altro modo.